Salve, oggi vi faccio una notizia come superare i renditi sui diversi quindi noi abbiamo qua una missione con 25 euro di tempo dobbiamo raccogliere 10,36 quindi apriamo c'è 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 mettiamo valuta 10 la lista per 2 abbiamo 10,10 attenzione ritraffieriamo tutto e togliamo qualche numero che è salvato quindi selezioniamo tutti i numeri mettiamo ben 0 e lo mettiamo in 0 quindi noi abbiamo 0 racconti scusa e abbiamo fatto la stanzione completamente adesso ci serve un off basta ritornare a cacciare ecco un bel off cerchiamo la stanzione riportiamo tutto e in qualsiasi dimensione che da 8 non vale solo per questo ma ci sono gli altri che visionano davvero questo ecco qui ecco qui mettiamo il 20 e lo portiamo a 0 mettiamo il 6 e lo portiamo a 0 questo è tutto grazie per l'altro ciao alla prossima ciao 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 ciao